Si presenta con una pioggia di reti il Barcellona di Martinez, ancora scottato per l'epilogo della scorsa edizione e voglioso di chiarire subito il ruolo di Blagurana nella G1A. Nonostante una partenza in forte pressione, i catalani sbattono contro il muro eretto da Puddu, riuscendo a sbloccare il match solo dopo 12 minuti con Girard. Anche i Biaccorossi hanno una grande chance ma Sciamanda non è freddo e Sanchez salva i suoi. Al ventiquattresimo nuovo squilo del Barça, la Stuey crossa dalla sinistra trovando Navarro che di testa raddoppia. I Blagurana allora iniziano a divertirsi e a divertire il pubblico, preparando un vero e proprio monologo nei secondi 35 minuti. L'ingresso di 6-2 è letale per il Renato Curi e proprio dai piedi del 17 parte l'assist che sblocca la ripresa. Uno straordinario Petric appara alla grande il rigore al giocatore copertina dei catalani, Xavi Simons, che al quarantesimo si scusa così, propiziando il poker a firma Martinez. Il talentuoso numero 12, così come Lopez, metterà a referto un bottino personale di quattro reti. A completare la goleada, la doppietta di Alastuey e il sigillo di Seydoux. La personalità di Simons in mezzo al campo e una grande abbondanza di soluzioni offensive fanno di questo Barcellona un parente non troppo vicino al gruppo dello scorso anno, in cui Pablo Moreno era l'implacabile finalizzatore, rendendo ancor più complicato per gli avversari trovare un riferimento sul quale lavorare in chiave difensiva. Il Barça ne fa 13 e, a dispetto di ogni scaramanzia, mette già nel mirino il match del 2 settembre contro la Juventus.